per poi arrivare all'emergenza Nord Africa nel 2011 e poi l'esperienza di Are Nostrum che fu avviata a novembre del 2013 dopo la strage di La Perusa quando morirono più di 300 persone. E oltre a questa parte storica ci parlerà un po' degli scenari internazionali perché parlare di rifugiati significa ogni anno pensare a milioni di persone che sono forzatamente costrette a lasciare le loro terre. Quindi, non so se un video sei pronto? Sì, sì. Ok, perfetto. Poi magari qualche domanda? Eccoci. Allora, ben trovati, grazie per questa occasione.